ciao a tutti ragazzi fragolosi e baranosi come direbbe la zia wilma sì sperando che qui regga il cellulare perché la memoria un po piena vi racconto che oggi 16 luglio stiamo andando in giro per un nuovo cortopetraggio rubrica un minuto al giorno si ci siamo preparati qui c'è a fianco il mio amico beauty tutte le mie cosine si nuovo video particolare nuovo cortometraggio non so bene il tema si lo so però non ve lo voglio spoilerare lo vedrete poi tanto divertimento ragazzi e andremo a pollena trocchia si ci incontreremo lì con il regista sono il makeup artist del suo cortometraggio e le novità in giro ritornerà la zia wilma ricordatevi ritornerà 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 ciao